È un periodo però impegnativo dal punto di vista della vaccinazione perché si prosegue ovviamente con i vaccini Covid e poi inizia la campagna anti-influenzale. Assolutamente sì, ma fortunatamente i due vaccini si possono fare insieme, quindi sia le persone, adesso quelle più fragili, gli over 80, oppure quelle con patologie, possono fare tranquillamente la terza dose del richiamo della vaccinazione Covid insieme con l'anti-influenzale, sia dal proprio medico di famiglia che venendo chiaramente nelle strutture aziendali. Quindi io invito tutti insomma a una protezione globale per gli anziani, ricordo anche l'importanza di fare la vaccinazione antipneumococcica, la cosiddetta vaccinazione contro la polmonite, in maniera tale da proteggere per tutte le infezioni possibili di cui abbiamo un vaccino che colpiscono le vie respiratorie. Ci avviciniamo all'inverno, non sappiamo come sarà l'evoluzione dell'epidemiologia virale, quindi se ci andiamo protetti il più possibile, soprattutto i fragili, è una cosa estremamente importante.